Buonasera, siamo con la dottoressa Bruno, presidente del Circo L'Unione di Augusta in occasione della presentazione della mostra dell'APF. Augusta, com'era e com'è? Dottoressa Bruno, lei ha già avuto modo di guardare in anteprima queste fotografie. Cosa ci dice? Certamente, buonasera. Innanzitutto devo precisare che continua la nostra positiva collaborazione con l'APF, con l'Augusta Photo Freelance. E' già il caso di ricordare che alcuni mesi fa abbiamo avuto con notevole successo grande affluenza di pubblico in occasione della mostra relativa alla settimana santa di Augusta. La mostra di oggi, ovviamente già nel titolo, si comprende Augusta, com'era e com'è? E sono degli scatti fotografici che mettono a raffronto diversi località di Augusta, centro e dintorni, e così come sono oggi e com'erano invece 30 o 40 anni fa. Sono certa che questi scatti fotografici interesseranno sia gli adulti, perché magari ritroveremo delle situazioni, delle atmosfere che abbiamo dimenticato, ma interesseranno anche i giovani, perché avranno modo di vedere degli scorci che non conoscono assolutamente. E poi il giudizio e il commento sarà di chi vede, naturalmente. Lei ha dato un'occhiata prima alle fotografie. Ci dica un'emozione che lei ha suscitato, qualche foto in particolare? Sì, le foto, per esempio, del convento di San Domenico in particolare, perché io lì ho fatto gli studi del ginnasio e del liceo, e naturalmente piange il cuore a vederlo ridotto con me, mentre allora pullulava di ragazzi, di vita, di professori e quant'altro, così come le foto anche, per esempio, dell'Arsena, oppure della vecchia stazione ferroviaria. Quindi sono tutte emozioni che ognuno di noi tiene dentro. Volevo ancora sottolineare, a proposito dell'APF, che è l'azione che loro stanno svolgendo nel territorio, perché la fotografia è una testimonianza importante di quello che succede attorno a noi. E loro certamente stanno facendo anche una preziosa opera di ricostruzione, perché restando la memoria di queste foto faranno poi un archivio che sarà molto utile alle generazioni future. Due battute, una battuta al volo. Augusta, come era e come? Meglio ora o meglio prima? Non si può dare una risposta affermativa, perché ovviamente il tempo si evolve. Sicuramente prima era più strutturata, cioè aveva più i connotati della cittadina, magari dei centri storici che ancora possiamo visitare o vedere in altri comuni della Sicilia. E quindi da questo punto di vista era più caratterizzata. Però pensiamo anche che ci sono adesso delle costruzioni magari sgradevoli a vedere, ma che sono stati funzionali all'attività di oggi. E certamente possiamo dire che dobbiamo guardare al passato, ma con uno sguardo proiettato verso il futuro. I giorni della mostra? Sì, ecco, la mostra si inaugura questa sera alle ore 19 e poi sarà aperta tutti i giorni della settimana, fino a domenica 27, con i seguenti orari. Il mattino dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 17 alle 21. Naturalmente ci aspettiamo che vengano tante persone a visitarci. Chiudendo la mostra avete un altro appuntamento, il 31 se non baderato. Il 31, infatti, sempre nell'ottica di valorizzare il nostro territorio. Il Circo L'Unione ha organizzato una bellissima serata al pontile nautica Glam di Brucoli, naturalmente solo su prenotazione, e si esibirà la Hot Jazz Orchestra, però avremo modo appunto di ammirare quel bellissimo posto che adesso è anche sede di set cinematografici.